Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Ho recentemente rilanciato proprio un episodio in cui approfondivo questo testo, un testo di Di André che è tra i miei preferiti e che mi fa sentire capito quando mi sento realmente solo. Perché non è Cantico dei Drogati soltanto perché parla di quella categoria. Diciamo che è il grado di solitudine che è tanto basso in quel brano e ci può appartenere in certi momenti in cui magari siamo un po' poco adatti alla vita. Ed è un brano che non lo puoi portare come l'ha portato Anna Castiglia che è un'artista forte. Ho già avanzato sui suoi pregi, sui suoi difetti nei vecchi podcast. Comunque l'ho apprezzata e secondo me ha sbagliato brano. Nel senso che un conto è magari un'interpretazione che avrebbe potuto dare da sola in cameretta, un conto in quella circostanza. Ci sono canzoni che richiedono veramente di essere esposte nel momento in cui si è più vicini a quella roba lì. Non è facile, è difficile. Io l'ho schippata subito l'esibizione perché già da come è partita ho capito. Poi mi sono andato a riascoltare eccetera per dare comunque dignità alle parole che sto dicendo ma il pensiero che mi sono fatto al modo in cui l'ho approcciato. Cioè nel senso che questa canzone anziché essere una canzone fosse una scena da portare in teatro è una di quelle scene che non si può recitare, va vissuta. Va vissuta prima, durante e dopo. Per poterla rivivere o poter rivivere cose simili poi artisticamente. Perché sì, ci sono delle cose, delle scene che in teatro, in cinema puoi recitare, va bene, va benissimo. Soprattutto nel cinema, in montaggio poi lo fai sembrare autentico volendo ma invece con la musica in modo particolare, con questa tipologia di brano questa è una parte che non si può recitare, si deve vivere. Ora io sono sicuro che lei conosce il grado di solitudine che esprime questo brano la solitudine della condizione dell'uomo che si domanda come potrò dire a mia madre che ho paura, che si trova a fare i conti con Dio un po' arrabbiato per il dolore che ha, un po' perché la rabbia è l'unica cosa che gli è rimasta in quel momento come un ultimo respiro che poi ti toglie completamente l'anima e nel senso non la puoi portare con questa superficialità io ci ho visto tanta superficialità e infatti Morgan l'ha esclusa subito, a priori non l'ha fatto apposta però l'ha un po' sfregiato di Andrè e non è per attaccare, nel senso secondo me quasi nessuno di tutto il cast di X Factor di tutti i ragazzi che appunto io ho fortemente proxato quest'anno ma secondo me nessuno di loro magari poteva essere in grado di portare questa canzone come andava portata ecco, infatti nessuno l'ha portata e chi l'ha portata c'è cascata quindi non tolgo niente a lei, dico solo che ha fatto la scelta sbagliata e non tolgo niente a lei, dico solo che ha fatto la scelta